Fastweb e Vodafone Italia si fonderanno in un'azienda sola. È ufficiale, oggi Swisscom e Vodafone hanno fatto sapere che Swisscom ha offerto 8 miliardi per Vodafone e Vodafone ha accettato. Se gli enti regolatori approveranno questa operazione, da inizio 2025 Fastweb e Vodafone diventeranno una cosa sola. Swisscom potrà continuare a usare il marchio di Vodafone per 5 anni nel nostro paese. Insieme diventeranno l'operatore più grande d'Italia. Cosa succederà nel dettaglio a Vodafone e Fastweb sarà tutto da vedere. L'unica cosa certa, oltre alla fusione, è che Iliad, che voleva acquistare Vodafone, è fuori dai giochi. Che ne pensate? Avete uno dei due operatori? Siete contenti o siete scontenti da questa fusione? Fatemelo sapere nei commenti.